Ieri pomeriggio all'Istituto Sacro Cuore di Brugnato, nell'ambito di una celebrazione molto partecipata, si sono rivissuti i momenti drammatici dell'alluvione di cinque anni fa nella casa di riposo per anziani e nella struttura psichiatrica di Rocchetta Vara attraverso il suggestivo racconto delle fasi salienti del dramma, dalla crescente preoccupazione degli addetti per l'impeto del fenomeno meteorologico e la furia delle acque, sino all'ordine di evacuazione impartito con perentorietà ma con ordine dai responsabili di struttura e poi via via gli episodi più significativi che hanno consentito di gestire l'emergenza grazie alla professionalità e alla disponibilità del personale, limitando così i rischi e i pericoli per gli ospiti, l'arrivo dei soccorsi e la gestione di una fase estremamente precaria e complicata sino al ritorno alla normalità. E c'erano veramente tutti, dalle istituzioni alle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco alle strutture volontarie di protezione civile, alle associazioni di volontariato, a ricordare con commozione quei momenti di fatica ma anche di profonda solidarietà umana, un dramma che ha fatto emergere il meglio dell'uomo, la sua capacità di donarsi senza risparmio per il bene dell'altro e in questo caso di persone più deboli e indifese. Questo quanto ha sottolineato anche dal vescovo nell'omelia della celebrazione seguita al momento celebrativo. Al termine la consegna di targhe da testati ai molti che vissero in prima persona quei momenti, non solo come attestato per il lavoro svolto e i soccorsi prestati ma anche per sottolineare un legame di stima e di affetto tra le persone che proprio in quei frangenti drammatici è nato e si è in seguito consolidato. Certo ecco è stato un momento proprio di comunione, una comunione che dura da parecchio, il personale diciamo in prima linea ma soprattutto anche le associazioni che hanno collaborato con noi perché è rimasto diciamo un legame di affetto e gli alpini per esempio quando passano vengono su vengono a trovarci a ricordo di quello che è stata una grande collaborazione che ci ha permesso di rendere l'ambiente in pochi giorni di nuovo adatto a ricevere le persone e a distrarle da quello che era il grande dramma che abbiamo vissuto. Molti ricordi di quei giorni e le emozioni scolpite nel cuore di Don Perinetti responsabile e animatore delle strutture, in particolare la grande solidarietà che si esprimeva senza riserve in tutti ed ognuno. Ma la vallata ha vissuto un altro momento intenso nella serata presso la chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo a Borghetto Vara, alla presenza delle autorità civili, delle forze dell'ordine e dei cittadini della vallata, il concerto per recuperare il senso dell'armonia e della bellezza, così come il parroco Don Tommaso Fasoli ha voluto sottolineare. Un pregevole concerto tenuto da un ensemble di studenti del Conservatorio Spezzino che hanno proposto musiche di Schubert in un crescendo armonico veramente coinvolgente. Poi la Santa Messa, preseduta dal Vescovo Poalletti, a suffragio delle vittime dei tragici eventi che colpirono pesantemente Borghetto Vara con sette vittime, ricordate tutte, una per una, nella preghiera dei fedeli e di affidamento al Signore.